Il 2020 e i primi mesi di quest'anno stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle oltre 150 imprese artigiane vicentine attive nel settore della lavanderia e della pulitura di articoli in tessuto e in pelliccia. Il crollo delle presenze turistiche e le restrizioni sulla mobilità delle persone hanno influito negativamente sulle attività di ristoranti e alberghi e le conseguenze a catena si sono ripercosse sul fatturato delle pulitinto lavanderie a causa della diminuzione nell'utilizzo e la manutenzione di capi di abbigliamento. Carla Lunardon, presidente provinciale pulitinto lavanderie, ha rivolto questo appello ai nostri microfoni. Noi lavanderie tradizionali abbiamo a che fare con un pubblico privato. È nostro compito fare un'adeguata manutenzione del capo e una buona sanificazione. Siamo collegati anche alla filiera del turismo. Questo comparto comprende i ristoranti e gli alberghi che in questo momento stanno soffrendo maggiormente. È un momento difficile per noi. Il turismo è fermo e noi non lavoriamo per quella filiera. Il cliente finale si deve rivolgere a noi per avere un supporto con un'adeguata professionalità per sanificare i capi. C'è una grande differenza tra lavanderie tradizionali, professionali e lavanderie a gettoni. Chiediamo alle autorità competenti di vigilare perché non ci siano distorsioni di mercato.